Un'ampia esposizione dove i fiori sbocciano impreziosendo l'aria e rendendo gioiosa la vista. C'è sempre un buon motivo, una ricorrenza o un bel matrimonio per scegliere i fiori di floral design. Tante sono le proposte della nuova boutique in via Francesco tedesco, stili differenti, a tinte soft o con colori decisi per enfatizzare ogni ambiente. Con un occhio attento alla riscoperta della tradizione, floral design crea scenari insoliti e suggestivi per organizzare con cura ed attenzione ogni tipo di cerimonia. Grazie ad un particolare software di elaborazione ambientale è semplice visualizzare e valutare le varie tipologie d'addobi e il legame con le varie strutture della festa per emozionare le giovani coppie ancora prima del giorno più bello della loro vita. Floral design esprime il desiderio di originalità riscoprendo la bellezza dei fiori scegliendo le note di colore più calde ed intense. Un giardino fiorito dove scegliere piante e fiori per creare piccoli angoli scenografici. Floral design in via Francesco tedesco ad Avellino. Space to flower.